Musica Altre due vittime sul registro covid nella giornata di ieri dedicata a ricordo. Si tratta di una novantenne di Cassel di Sangro, Marisa Colecchi, una novantunenne di Sulmona, Rosaria Tecca, entrambe ricoverate per le conseguenze del contagio da covid-19 accertato lo scorso 9 marzo. La prima è morta nelle malattie infettive dell'ospedale di Avezzano, l'altra nella medicina covid del nosocomio San Salvatore dell'Aquila. Le due anziane si vanno ad aggiungere al registro nero del covid, ovvero all'elenco dei decessi legati al virus. Se ne contano 125 dall'inizio dell'emergenza pandemica in centro Abruzzo, di cui 102 solo in Valle Peligna. Lo scorso anno, nella giornata del 18 marzo, ne erano 66. Il dato dei decessi è quindi raddoppiato, nonostante gli strumenti acquisiti per fronteggiare il contagio e le diagnosi più tempestive. Va rilevato che nella maggior parte dei casi si tratta di decessi non causati dal covid, ma legati allo stesso, a un quadro clinico già compromesso. Il più giovane è stato Raffaele Paolini, l'ingegnere di Sulmona di 47 anni, morto il 9 febbraio 2021. La più longeva è la nona simbolo di 104 anni, Elvira Vecchiola, deceduta lo scorso 3 marzo. In quel libro nero ci sono giovani e anziani, pazienti oncologici, pazienti sani, nomi e non numeri, persone che comunque non ce l'hanno fatta. Onorare e ricordare le vittime significa saper riorganizzare la sanità, dentro e fuori l'ospedale, cogliendo la lezione della pandemia, perché qualcuno è morto anche in una stanza non a norma, o perché è trasferito troppo tardi. Mettere in piedi un sistema sanitario pronto ed efficace è il miglior modo per evitare nuove vittime e salvare nuove vite. Avrebbe avvertito un malore in auto e in ospedale ci sarebbe arrivato solo grazie alla prontezza dei riflessi dei carabinieri, protagonista dell'episodio e un uomo di origine campana, in vacanza nel capologo Sangrino. Lo stesso aveva parcheggiato la propria autovettura nei pressi dello stadio Teofilo Patini, probabilmente in seguito a un malore. A notare l'auto in sosta in uno slargo è stata una pattuglia dei carabinieri impegnata nel servizio di controllo del territorio. I militari hanno notato il conducente particolarmente sofferenti e hanno allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il turista nell'ospedale di Avezzano, essendo indisponibile l'elisoccorso impegnato in quel momento per un'altra emergenza. L'uomo è tuttora ricoverato in prognose riservata, tant'è che resta sotto osservazione nel nosocomio marsicano. Il malore sarebbe stato dovuto a un ictus come diagnosticato successivamente dai medici. Una corsa a sirene spiegate, quella dell'ambulanza, che si è resa possibile grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. Immaginate che non ci sia una proprietà. Mi domando se si possa. Nessuna necessità di cupidigia o brama, una fratellanza di uomini. Immaginate tutta la gente, condividere tutto il mondo. Gli studenti dell'Istituto Superiore Ovidio hanno preso alla lettera le parole di John Lennon e in dieci giorni sono riusciti a raccogliere un piccolo tesoro. Non si tratta di monete d'oro o diamanti, ma di qualcosa che oggi ha molto più valore. Sono beni di prima necessità. Con l'aiuto e il supporto e la coordinazione dei docenti, ogni studentessa e studente ha portato ciò che poteva, dal cotone ai cerotti, dai disinfettanti alle sirinche. Con l'elenco reso pubblico dal comune di Sulmona hanno riempito numerosi scatoloni. E nella giornata di ieri questo tesoro è stato consegnato nelle mani della protezione civileana presso la caserma Cesare Battisti, destinazione Ucraina. Non deve stupire se tanta generosità e solidarietà hanno preso vita nel cuore degli studenti di una scuola superiore, perché sono proprio loro, i millennials, la nostra speranza per un futuro senza confini e differenze, perché prima d'ora mai nessuna generazione è stata più inclusiva della loro. Vecchie e nuove generazioni, studenti ed ex, tutti hanno reso omaggio al sommo poeta Ovidio, alla vigilia del suo dies natalis. La corona posta sul capo del sommo poeta nella centralissima piazza 20 settembre ha concluso stamattina la breve cerimonia dedicata al dies natalis di Ovidio. Accanto alla dirigente repolo liceale Ovidio, Caterina Fantauzzi, sindaco Gianfranco Di Piero, proprio l'associazione delle ex liceali, oggi rappresentata da Cinzia Simonetti, ha donato la corona che lo studente Federico Puglielli ha posto poi sul capo della statua del sommo poeta. Prima del momento conclusivo la celebrazione è stata animata dalla declamazione diversi ovidiani, curati dai liceali Irene Ciamacco, Francesco Pantano, accompagnati dal flauto di Benedetta Cutarella. Poi la premiazione Ovidio a scuola al cinema pacifico, perché Ovidio è diventato sempre più amico, sempre più presente, sempre più familiare ai liceali e non solo. Finalmente, dopo tre anni ormai, riprendiamo le celebrazioni del Dies Natalis con il progetto Ovidio a scuola, che ha visto quest'anno la partecipazione di numerosissime classi, provenienti da tutti gli istituti comprensivi del territorio, della Valle Peligna. Siamo molto soddisfatti, siamo contenti, ricominciamo da Ovidio con Ovidio. Il concorso Ovidio a scuola è rivolto proprio ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. È un concorso che ha l'obiettivo proprio di diffondere la cultura, la conoscenza di Ovidio tra i più giovani, proprio per saldare quel legame tra passato e presente, e soprattutto per far prendere a questi ragazzi consapevolezza della ricchezza del nostro patrimonio culturale. In qualche modo loro sono gli redi di questa ricchezza e quindi partecipando a questo concorso crescono con Ovidio e crescono proprio sapendo di essere concittadini di questo illustre poeta famoso in tutto il mondo. Quest'anno noi abbiamo proposto un mito classico, diciamo, molto conosciuto, che è quello di Apollo e Daphne, con una risposta veramente entusiastica. Quindi sono arrivati tanti lavori, tutti apprezzati dalla giuria e oggi abbiamo avuto modo di premiarli. Questa città oggi ha due opzioni, quella di girarsi indietro o quella di guardare avanti. Questo il motto della lista L'Aquila al centro, anzi il simbolo, che parteciperà alle prossime elezioni comunali nel capologo di regione a sostegno del sindaco Pierluigi Biondi, ricandidato anche per il secondo mandato consecutivo. A presentarle è stata ieri il senatore Gaetano Quagliarello e nel novero dei nomi che corrono la carica di consigliere c'è anche quello di Noemi Tazzi, che spiega la mission della lista, la centralità che deve avere l'Aquila, lo sviluppo della stessa nello scacchiere regionale e non solo. In occasione della presentazione del simbolo dell'Aquila al centro mi sono presentata alla cittadinanza ufficialmente come candidata alle prossime elezioni comunali. È stato un momento molto emozionante perché dopo tanti anni dedicati al servizio degli altri nel settore sportivo e sociale, appunto, è molto gratificante mettersi a disposizione della comunità insieme a delle persone che puntano ai miei stessi obiettivi. Infatti voglio ringraziare il senatore Gaetano Quagliarello che ci sta facendo fare questo percorso e che per me è una persona molto competente a livello politico e è una persona molto concreta, quindi tutti quelli che sono i progetti con lui si concretizzano. Lo stesso penso di Daniele D'Angelo, che è un altro dei nostri candidati, è un ragazzo molto concreto nelle sue azioni politiche e ha dedicato veramente tutta la sua vita alla crescita del territorio e a portare l'Aquila a dei miglioramenti. L'Aquila al centro vuole dare alla città un contributo concreto per la valorizzazione del territorio e anche delle persone. Il nostro obiettivo è quello di gestire una politica del fare che possa portare l'Aquila ad essere considerata una città moderna, all'avanguardia, ma comunque legata alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura. Quindi l'Aquila al centro significa investire sui giovani, sulle professionalità, con uno sguardo attento ai cambiamenti politici e sociali che stanno avvenendo in Europa. L'Aquila quindi al centro anche della regione, l'Aquila nel cuore di quegli aquilani che sono alla ricerca di un punto di riferimento politico concreto, trasparente e propositivo. Il primo classificato quest'anno è l'olio dell'azienda numero 18. Centofanti, Mirella di Sulmona, le Marane di Sulmona, con un liveto sempre alle Marane di Sulmona e Amolito presso la Zappe di Raiano. E' stato l'olio prodotto da Mirella Centofanti a vincere la sedicesima edizione di Frantolio, il concorso dedicato al buon olio Peligno, che si è svolto a Bugnara. Dietro di lei, nell'ordine, i campioni di Giovanni Baldini, di Raiano, Simona De Santis, d'Introdacqua, Francesco Gianmarco, di Campodifano e Santino di Gianantonio, anche lui di Raiano. Tra i frantoli del territorio quest'anno a farla da padrone è stato l'impianto del consorso Anzapio di Raiano. Sono onorato di ospitare il sedicesimo concorso buon olio Peligno. E' già la seconda volta che ospitiamo questa manifestazione. È una manifestazione organizzata appunto dalla Russica Gentile, un'associazione stupenda che sta facendo un lavoro ottimo per l'olio e gli olivi della Valle Peligna. Al centro del dibattito, che si è sviluppato durante il convegno, due argomenti salienti. La consapevolezza dell'olio come alimento e di progetti del Gallo Abruzzo Italico Alto Sangro, che puntano a dotare il settore degli strumenti necessari per il miglioramento sostanziale del prodotto olio nella Valle Peligna. A questi hanno fatto seguito le relazioni di Dario Compagnone, professore ordinario di chimica analitica e delegato della progettazione e ricerca della Facoltà di Bioscienze dell'Università di Teramo, e di Flavio Della Pelle, ricercatore di chimica analitica dell'Università di Teramo. Ci siamo occupati in questa fase di fare delle analisi per la valorizzazione di campioni di olio e sostanzialmente abbiamo evidenziato delle caratteristiche abbastanza importanti, soprattutto per quanto riguarda il contenuto dei polifenoli, quindi il contenuto fenolico che sono composti abbastanza rilevanti dal punto di vista nutrizionale. Quindi dai primi dati preliminari osservati, questo olio sicuramente è un olio di buona qualità e sembra che ci siano delle caratteristiche particolari nutrizionali, in particolare riguardo il contenuto di alcune molecole che danno un effetto benefico particolare. È un inizio di studio, sarebbe il caso di continuare su questa strada per una maggiore valorizzazione, ma sicuramente i primi dati sono molto incoraggianti sulla qualità di questo prodotto. Soddisfatto il presidente dell'Associazione Rustica Gentile, Franco Volpe, che ha sottolineato l'importanza raggiunta da Frantolio nell'economia sostenibile del territorio peligno ed ha annunciato che l'edizione 2023, con numerose novità, si svolgerà a Pettorano sul Gizio. Il testimone è stato raccolto dall'assessore di Pettorano, Simona Schiappa. Un concorso che ha visto coinvolti 54 produttori con oli eccellenti e la sedicesima edizione che ci portiamo avanti in questi diversi anni c'è da parte dei produttori un'attenzione veramente molto particolare su questo tipo di cultivar e questo ci fa veramente onore perché l'olificoltura peligna è un'olificoltura che si tramanda da generazioni, da padre e figlio, e c'è la storia dietro a questa olificoltura. Noi abbiamo un parrimonio olificolo centenario, per non dire millenario, che purtroppo dovuto alle avversità atmosferiche hanno avuto delle mutazioni. Però nonostante questo il nostro patrimonio olificolo della Valle Peligna che si aggira all'incirca sui mille ettari di superficie riesce tuttora a garantire un prodotto di eccellenza. Terzo ultimo appuntamento della stagione della camerata musicale sulmonese con il quintetto Bottesini, che si esibirà domenica 20 marzo alle 17.30 al Teatro Caniglia di Sulmono. L'ensemble è nato con l'intento di riscoprire un repertorio di rara esecuzione e di grande interesse musicale, quello dedicato all'organico del quartetto d'archi e pianoforte, ma con il contrabbasso al posto del secondo violino. Unica formazione stabile in Italia, con questo particolare organico, il quintetto ha scelto di dedicare il nome dell'ensemble al grande virtuoso del contrabbasso, nonché compositore e direttore d'orchestra, Giovanni Bottesini. L'ensemble si è esibito in diverse rassegne e festival in Italia, in sali prestigiose come la Petrassi e la Sinopoli. Ha effettuato anche importanti tornei in Polonia, Ecuador, Venezuela e Brasile, Giordania e Stati Uniti, ricevendo notevoli apprezzamenti da parte del pubblico e dalla stampa specializzata. Il prossimo appuntamento è la camerata musicale Sulmonese, domenica 27 marzo, con il duo d'eccezione Uto Uvi e Bruno Canino. Infine film in programmazione nella multisala Ejoland di Corfinio, The Batman, due proiezioni 17.50, 21 e 10. c'era una volta il crimine, 18 e 10, 21 e 10. E ancora, corro da te, 18 e 10, 21 e 10.